Veneto e Campania, sono questi i territori con il maggior numero di richieste da parte delle vittime dell'usura, una trentina per ciascuna regione. Dietro questi numeri, famiglie, imprenditori e commercianti, spesso travolti dalla pandemia, che si rivolgono alla criminalità organizzata. Una sorta di welfare mafioso di prossimità, un aiuto economico immediato, grazie alla liquidità nelle mani delle cosche, in cambio di connivenze future. A tracciare il quadro di un'economia che non riesce a ripartire, il commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura. Nella relazione annuale emerge un nuovo profilo della criminalità organizzata, apparentemente meno violenta ma più pervasiva, e poi il calo delle denunce. Le stanze presentate al Fondo Anti-usura nel 2020 sono 183, l'anno scorso avevano superato le 350. Scendono anche le denunce di estorsione, 208 rispetto alle 340 del 2019. Sul tema è intervenuta anche la ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, che ha chiesto procedure più rapide per l'accesso ai fondi. Il comitato finora ha deliberato la concessione di 18 milioni di euro a favore delle vittime di usura. Sono soprattutto titolari di attività commerciali all'ingrosso al dettaglio. 5 milioni per le vittime di estorsione, che operano soprattutto nel settore delle costruzioni.